ciao a tutti benvenuti in questo quarto appuntamento riguardante i plugin interni di studio one oggi ci occuperemo del mixverb il primo di una serie di riverberi all'interno dell'applicazione molto interessante e più leggero rispetto gli altri l'ho inserito all'interno di un pianoforte diamo un po di pre-delay sentiamolo con senza interessante la funzione di gate che ci consente di inserirlo senza ascoltarne la coda è il riverbero più leggero all'interno studio one quindi applicabile in tantissime tracce in base alle esigenze che troviamo spero vi sia stato utile iscrivetevi al mio canale youtube seguitemi su facebook e su musicoff ciao a tutti iscrivetevi al canale